Questo è un argomento scottante di cui non si parla mai né in chiesa né a catechismo né durante l'ora di religione, ma la masturbazione è un peccato? Vi ricordate quando a catechismo si leggevano i dieci comandamenti e a un certo punto si arrivava al non commettere atti impuri? A molte persone infatti è sempre stato detto che questo comandamento si riferisce proprio a questo atto, ma è proprio così? Allora i dieci comandamenti sono stati dati non a tutta l'umanità ma al popolo di Israele. Per gli ebrei ci sono molte cose che rendono un uomo impuro, come per esempio le mestruazioni, come per esempio il parto, come per esempio le emissioni notturne, come per esempio toccare un cadavere, alcune malattie della pelle, come la lebra, mangiare del cibo impuro, oppure non lavarsi le mani prima di mangiare. Per gli ebrei lavarsi le mani non è un gesto, diciamo, non è un atto igienico ma è un atto sacro. Ora quando una persona si rendeva impura mediante una di queste cose era necessario che venisse esclusa dalla comunità per un certo tempo, non le era permesso visitare il tempio per evitare che contagiasse con la sua impurità qualche altra persona e doveva intraprendere la purificazione che poteva avvenire o attraverso un lavaggio fisico, anche Gesù se non sbaglio quando guarisce un cieco lo manda in piscina, lo manda a lavarsi per purificarsi, oppure mediante il sacrificio di animali che quello va sempre bene. Come avete sentito, quindi, non c'è niente che lega gli atti impuri con la masturbazione nello specifico. Si tratta di una delle tantissime bufale. Ecco, quindi quando sentite non commettere atti impuri non pensate che si riferisca alla masturbazione. Se vi è mai capitato di leggere qualche scritto di Freud oppure dei primi sessuologi, degli psicologi di fine ottocento e inizio novecento, avrete notato che non trovate la parola masturbazione, ma trovate un termine strano, onanismo. Onanismo deriva da Onan e Onan, guarda caso, è proprio un personaggio della Bibbia. La storia di Onan è brevissima. Onan è nipote di Giuda, ha un fratello, il suo fratello è sposato con Tamar. Genesi 38, 6. Giuda, per il suo primo genito Er, scelse una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primo genito di Giuda, non si comportava bene dinanzi al Signore. Il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan, che è il fratello di Er, unisciti alla moglie di tuo fratello, compi verso di lei il tuo dovere di cognato e fa nascere una discendenza per tuo fratello. Quindi Giuda comanda a Onan di avere un figlio dalla moglie del fratello che gli è appena morto. Onan sapeva bene che se fosse nato un figlio non sarebbe stato suo, perciò ogni volta che aveva un rapporto sessuale, sottointeso, con sua cognata, disperdeva, altre Bibbie scrivono emetteva, come se fosse una stazione radio, disperdeva il seme per terra. Stiamo parlando quindi del metodo, dell'unico metodo anticoncezionale che c'era nell'antichità, ovvero del coito interrotto. E così impediva il concepimento e non dava una discendenza al fratello. Questo suo modo di fare non piacque al Signore, che fece morire anche lui. Cosa succede? Quindi Onan, anziché impegnarsi per fare un figlio con Tamar, durante i rapporti sessuali, eiacula fuori da Tamar e quindi il Signore lo punisce. Ora, per moltissimi secoli questo episodio è stato interpretato come una condanna della masturbazione, ma invece ormai tutti gli interpreti concordano che Dio non punisce Onan per il fatto, ma punisce Onan per il suo essere ribelle e per il suo aver disubbidito al comando di Giuda, cioè perché lui non ha voluto fare un figlio con Tamar. Questo è il vero motivo che gli porterà alla morte. Bene, nell'Antico Testamento non c'è traccia quindi della masturbazione, masturbazione, vediamo il Nuovo Testamento. C'è un episodio abbastanza curioso in cui alcuni vedono, in alcune parole di Gesù, appunto una condanna della masturbazione. Non lo so, adesso mi direte magari nei commenti se voi siete d'accordo, poi io vi dico la mia opinione. Gesù sta parlando dell'adulterio e sta dicendo Sapete che nella Bibbia è stato detto non commettere adulterio, ma io vi dico, se uno guarda la donna di un altro perché la vuole, nel suo cuore egli ha già peccato di adulterio contro di lei. Cioè Gesù è ancora più radicale della Bibbia. Mentre la Bibbia dice che se commetti adulterio devi essere punito, Gesù dice il solo pensiero di tradire tuo marito o tua moglie, il solo pensiero dell'adulterio è già in sé adulterio. E poi dice Gesù A cosa si riferisce? L'occhio serve per guardare. Stiamo parlando dell'adulterio, no? Del desiderio carnale, quindi l'occhio potrebbe essere l'occhio che guarda la bella donna o il bell'uomo. Ti conviene perdere soltanto una parte del tuo corpo piuttosto che essere gettato tutto intero all'inferno. Se la tua mano destra ti fa compiere il male, tagliala e gettala via. Eccolo qui. Perché Gesù si è riferito alla mano destra? Ma potrebbe essere in generale la mano destra? Non so. La mano destra è quella che porta la spada, quindi se ti fa compiere il male gettala via, ma non lo so. A me sembra un riferimento alla masturbazione. Ti conviene perdere soltanto una parte del corpo piuttosto che andare tutto intero all'inferno. Non è proprio chiarissimo, però insomma stiamo parlando di adulterio, stiamo parlando di desiderio, e poi Gesù dice se il tuo occhio destro ti fa compiere il male, buttalo via, e se la tua mano destra ti fa compiere il male, buttala via. Insomma, non è proprio chiarissimo, però... Boh. Fine. End. Non c'è nessun altro riferimento nell'Antico Testamento o nel Nuovo Testamento esplicito alla masturbazione. C'è però... Ci sono molti riferimenti però ai pensieri lussuriosi, che sono quelli che normalmente precedono questo atto, no? I pensieri lussuriosi, la lussuria, i pensieri immorali, i pensieri di desiderio adultero, tutti questi sono condannati nella Bibbia, sono peccato. Alcuni però dicono di leggere 1 Corinzi 10,31 Quando mangiate o bevete, o quando fate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. E quindi, dicono queste persone, la masturbazione è un atto che rende gloria a Dio? No. Quindi non fatela, perché tutto ciò che fate deve essere per la gloria di Dio. Ma io dico, dobbiamo interpretarlo veramente in senso così letterale, quindi anche fare la pipì non è un atto che rende gloria a Dio, quindi è meglio non farlo e nemmeno accendere l'automobile e nemmeno andare a fare shopping. Altri invece fanno riflettere che in 1 Corinzi 6,19 è scritto Voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Dio ve lo ha dato ed Egli è in voi. Rendete quindi gloria a Dio col vostro stesso corpo. Ma io mi chiedo, questo non dimostra che l'atto della masturbazione è un danno al nostro corpo. Ok, il nostro corpo è un Tempio. Cosa significa? Che ha un valore, è prezioso, non dobbiamo rovinarlo perché dentro c'è lo Spirito Santo. Ma dove c'è scritto che la masturbazione fa un danno al nostro corpo, rovina il Tempio? Questo è tutto un pregiudizio, un'assunzione di base. Dunque, considerando tutto quello che abbiamo detto, per i cristiani la masturbazione è peccato? Allora, i pensieri lussuriosi sicuramente sì. E la masturbazione... Boh, non c'è scritto niente di chiaro. Fun fact, per San Tommaso d'Aquino la masturbazione è un peccato più grave dello stupro.